Avevano riorganizzato il clan di Cosa Nostra Emanuello e si dedicavano alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Nella notte sono stati bloccati nell'ambito di un vasto blizze che visto impegnati i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, Catania, Palermo, Parma e Torino assieme agli agenti dei commissariati di Gela e a quelli della reparto prevenzione crimine di Palermo. 16 le misure cautelari eseguite messe dal GIP e dal Tribunale di Caltanissetta, Alessandra Bonaventura giunta su richiesta della direzione distrattuale antimafia del capoluogo Nisseno. In carcere è finito Gianluca Pellegrino, 32 anni, ritenuto dagli investigatori il nuovo reggente del clan. Arresti domiciliari per Alessandro Emanuele Pellegrino, 26 anni, Giovanni Battista Campo, 50, Pietro Caruso, 32, Emanuele Faraci, 37 anni, Orazio Tosto, 23, Angelo Famao, 28, Gianni Cavallo, 24 e Guido Legname, 21 anni. Altri dei sei soggetti sono stati raggiunti dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si tratta di Rosario Pern, Gabriele Macchiarella, Loreto Saverino, Francesco Cuntro, Angelo Scialabba e Nunzio Alabiso. Alla cattura è sfuggito un 24enne. Secondo quanto accertato dalle indagini svolte dalla squadra mobile Nissena e dal commissariato di Gela, diretti rispettivamente da Marzia Giussolisi e Francesco Marino, Gianluca Pellegrino, scarcerato nel 2011 dopo otto anni di carcere per mafia e droga, era tornato attivo nell'ambito criminale gelese prendendo le redini della consorteria mafiosa degli Emanuello. Numerosi collaboratori di giustizia ne hanno confermato la sua caratura criminale. Approfittando dello stato di detenzione di altri affiliati al gruppo, anche dell'Inzivillo, ha rialacciato i contatti con i sodali, consolidando il potere mafioso acquisito e dimostrando lo spessore criminale mantenuto nel tempo. Non soltanto droga, ma anche estorsioni. Pellegrino, infatti, è ritenuto il mannante del danneggiamento col fuoco ai danni di un'abitazione di un imprenditore che si era rifiutato di pagare. In merito al traffico di sostanze stupefacenti, le indagini hanno appurato che la droga, hashish, marijuana e cocaina, veniva acquistata a Catania e a Palermo e poi rivenduta a Gela. Il clan, decapitato la scorsa notte, era ben organizzato. Ognuno aveva un ruolo. C'era chi contattava i fornitori, chi trasportava la droga, chi la deteneva e chi la spacciava. Sono 23 gli episodi di gestione ampiamente documentati, anche con numerosi sequestri di sostanza stupefacente operati dagli investigatori, specie in ore notturne. Il gruppo, infatti, smerciava droga, soprattutto nei locali estivi. Singolare il rinvenimento di alcuni grammi di cocaina anche nello scarico fognario dell'abitazione di Giovan Battista Campo. Il figlio, infatti, se ne era disfatta buttandola nel water. L'associazione criminale disponeva di armi, anche modificate, che utilizzava compiendo atti intimidatori per spadroneggiare in città. Nel corso dell'operazione di polizia, denominata Falco, sono stati sequestrati 7.800 euro in contanti a Gianluca Peregrino, una scacciacani al fratello Alessandro, e della sostanza stupefacente, 12 grammi di marijuana e 4 di hashish, un bilancino di precisione e l'occorrente per il confezionamento di dosi a guido legname.